Envision TV, comunichiamo mondi. Per le piccole e medie imprese sta diventando sempre più una vera necessità fare gioco di squadra per trovare nuovi sbocchi commerciali. Soltanto unendo le forze si possono affrontare le difficoltà, ma anche le opportunità derivanti dalla globalizzazione. L'associazione di imprenditori Italia Innova nasce con l'intento di sostenere i suoi componenti nelle percorse di crescita e nella ricerca di nuovi mercati. Una realtà che punta alla promozione, al benessere e alla valorizzazione del territorio, confidandone nel sostegno delle altre associazioni territoriali e delle istituzioni pubbliche. Grazie a questa sinergia è stata ideata la Tre Giorni Italia-Cina, che si terrà a Filottrano il primo 2-3 marzo, e che vedrà la presenza di oltre 120 personalità cinesi delle mondo delle istituzioni, della cultura e del business. L'iniziativa, patrocinata dal comune di Filottrano, da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro-Urbino, da Prodotti Nobili Marchigiani e dalla Banca di Filottrano, si svolgerà prevalentemente nella bellissima Villa Centofinestra a Filottrano. Più di 50 aziende marchigiane avranno la possibilità di incontrare gli imprenditori cinesi, che arriveranno per le due giornate di B2B previste per le 2 e 3 marzo. L'Italia è nuova, è nata veramente perché volevamo cambiare qualcosa, allora per cambiare qualcosa bisogna fare, bisogna veramente fare, e noi cerchiamo di fare per portare un risultato. Lei è già andato in Cina, ci sono grosse opportunità. Quel mercato come lo vede da singolo imprenditore, ma anche da presidente di questa associazione? Noi siamo andati precisamente nel territorio di Zinzù, nel distretto di Ennanne, un piccolissimo territorio di 124 milioni di persone, per cui due volte l'Italia. Abbiamo scelto quel territorio anche grazie alla Rivertree, perché è un territorio vergine di Made in Italy. Non c'è tutta quella presenza massiccia che magari si può trovare in altre zone. Loro hanno l'intento di portare le nostre eccellenze in Cina, perché oggi il cinese medio si è arricchito e arricchendosi non vuole più il loro prodotto, anche se cercano di elevarlo, ma sono cresciuti, hanno i media che prima non avevano a disposizione, per cui sono cresciute anche le loro aspettative di vita e abbiamo notato e visto che c'è tanto veramente da fare. Sindaco, una grandissima vetrina per la città di Filottrano, la città della moda, ma non solo. I suoi imprenditori accoglieranno quelli cinesi per trovare nuove opportunità commerciali, ma poi a ottobre andranno anche in Cina per vedere che cosa si può fare in un paese che ovviamente può offrire moltissimo anche in termini economici. È una vetrina che Filottrano merita tutta per il lavoro che è stato fatto nel corso degli anni. Filottrano in questi momenti anche difficili si trova a tenere botta, quindi a poter essere un punto di incontro per molte imprenditorie. Filottrano c'è anche l'artigianato artistico, quindi abbiamo delle tipologie diverse di ditte e questo ha permesso che Filottrano fosse scelta. Filottrano è stata scelta per la sua storia, per avercela fatta tante volte, quindi per riuscire a tenere anche ora e per avere anche un bellissimo territorio da mostrare. Mostreremo il meglio di noi per dimostrare che il territorio marchigiano vale, che le piccole realtà hanno un'importanza, una sua valenza e perché i territori marchigiani tutti insieme possono rappresentare quel valore aggiunto e quel qualcosa in più per attrarre turismo. Quindi benvengano queste iniziative, onore all'imprenditoria che è stata così brava questa volta da organizzare qualcosa di importante, senza paura, scommettendo nel futuro con questo mondo così diverso dalle tradizioni antiche che in questo momento è importante proprio a livello mondiale. Quindi mi hanno detto che andranno in Cina, io ho detto se mi portano con loro andrò volentieri. Lei è stato quello un pochino che ha spinto tutto, che ha dato anche le via e il sostegno a Italia e Nova e quest'oggi cominciamo a vedere i frutti che poi magari saranno concreti nelle tre giornate del primo 2-3 marzo qui a Filottrano. Io all'inizio avevo un po' di diffidenza perché ovviamente mettere insieme imprese che hanno situazioni strutturali un pochino diverse è stato un po' difficile però dopo siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio anche perché non nascondo che ho fatto anche giustamente degli attori in campo delle persone che si sono proposte per questa iniziativa abbiamo fatto una seria valutazione anche di affidabilità, di patrimoni perché ovviamente dopo mettere insieme persone che hanno strutture diverse diventa un problema. Siamo giunti a questa unione associativa perché l'associazione credo che sia quella struttura giuridica che consente senza grandi impegni di prodigarsi per un obiettivo comune. Da questa piccola idea l'abbiamo messa insieme, coronata e ci auguriamo che anche tramite il nostro supporto associativo di Confartigianato è indispensabile perché ovviamente hanno avuto non soltanto un aiuto tecnico nella fase di start-up iniziale ma lo avranno tuttora perché ovviamente avendo a che fare con un territorio dove ci sono anche altre imprese che possono allargare questo contesto e andare a proporre queste nuove eccellenze marchigiane nel territorio e in Cina soprattutto, credo che sia indispensabile proseguire in questa direzione. Partner fondamentale nell'allestimento della Tre Giorni di Filottrano è il gruppo cinese River Tree che attraverso il suo responsabile per l'Europa, Francesco Wu e il responsabile per la Cina, Tang Chao, ha rimarcato le grandi potenzialità del distretto industriale marchigiano e le positive ricadute che potrebbero essere colte in Oriente. A tal proposito, gli imprenditori marchigiani di Italia Innova nel mese di ottobre andranno in Cina per ricambiare la visita. La via della setta dalla nostro presidente che ha lanciato questo progetto allora anche la Italia è un mondo dei fashion, dei moda anche loro hanno un prodotto di qualità e soprattutto i consumatori cinesi gli piacciono. E cosa fa la River Tree? Noi facciamo delle comunicazioni e facciamo soprattutto per la costruzione dei ponti sia che in Italia sia che tutta l'Europa per scambio dei business e cottura del commercio. Come è vista l'Italia in Cina? Molto bene, voi sapete che ultimamente i vestitori cinesi sanno tanto qua in Italia che vestono. Io credo che sui prodotti italiani, in Italia per noi è una partnership non mancabile. Lei ovviamente accoglierà gli imprenditori cinesi che verranno in Cina per far conoscere le opportunità della Cina per quanto riguarda le imprese italiane. Quali settori dell'economia italiana sono più ricercati in Cina? Filotrano è la città della moda, ma oltre alla moda ci sono altri settori che possono avere delle opportunità commerciali nel vostro paese. Io credo che ultimamente non solo la moda che vanno tanto bene in Cina, vanno tanto bene anche dalla parte, chiamiamo, ultimamente in Italia piano piano sta lì entrando questo mercato cinese e ha capito che non solo la moda in italiano che vanno, c'è anche alimentare, cottura, arte, tante tante cose che vanno buono in Italia. Perciò adesso ultimamente noi crediamo a brevi di cinque anni che i prodotti italiani in Cina vanno di molto, di vari settori, non solo del moda. Le due giornate di lavori saranno accompagnate da tanti momenti di degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio grazie alla presenza dei prodotti nobili marchigiani che saranno protagonisti della cena di gala del 2 marzo al Pala Valdinelli di Osimo preparata dai ragazzi dell'istituto alberghiero Einstein Nebbia di Loreto. In equalità di banca del territorio, ha aggiunto il funzionario Mariano Severini, la banca di Filotrano è orgogliosa di sostenere iniziative di questo genere che vedono soprattutto l'impegno dei giovani e la promozione delle nostre eccellenze. Siamo una banca del territorio e viviamo il territorio perché la nostra missione è questa, stare vicino agli imprenditori, aiutarli a crescere e fargli capire quali sono le opportunità di mercato. Questa sicuramente è un'opportunità che deve essere valutata e può dare dei forti impulsi alla crescita del territorio. La Tre Giorni Italia-Cina si concluderà sabato 3 marzo con una cena di gala offerta da Luca Paolo Rossi che ha scelto la splendida tenuta di Montepolesco a Filotrano per rappresentare l'Ebello che resiste e dura nel tempo, cifra distintiva delle nostre made in Italy nel mondo.